Strana situazione quella in cui versa Samsung. Da una parte i risultati preliminari del primo trimestre confermano la debolezza del comparto smartphone. Stretto tra Apple nella fascia alta e i rivali low cost asiatici in quella bassa, il colosso coreano attende con ansia il 10 aprile, quando sugli scaffali sbarcheranno i nuovi Galaxy S6. Dall'altra però il risultato operativo stimato di quasi 5 miliardi di euro è risultato, seppur in calo, superiore alle aspettative, merito delle divisioni che producono i display a cristalli liquidi e i processori usati proprio da molti dei suoi concorrenti.